Scontro tra Parolin e Galantino sulla frase Aiutiamoli a casa loro di Matteo Renzi. Il numero 2 della CEI boccia la svolta dell'ex premier. Poi il segretario di Stato Vaticano afferma, discorso valido, il servizio. Aiutiamoli a casa loro. Le buone intenzioni e i numerosi tentativi di affrontare l'ingombrante tema problema della mobilità umana continuano a cozzare contro l'oggettiva difficoltà di farvi fronte con i mezzi disponibili messi lodevolmente in campo, ora dagli uni, ora dagli altri. Lo ha sottolineato Monsignor Nuzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, in un suo intervento. Quando un tema che vede coinvolti storie e volti concreti viene affrontato in maniera interessata è difficile aspettarsi soluzioni praticabili, ammonisce il presule, soprattutto se si prende atto che i flussi migratori nel mondo sono in costante aumento. Oltre 250 milioni di persone ogni anno si mettono in cammino, anche in condizioni tali da mettere a rischio la propria vita, mentre rifugiati, sfollati e richiedenti asilo sono oltre 65 milioni all'anno. Di fronte a tutto ciò, come accompagnare queste persone in cammino? Come tutelare la loro libertà di partire e di restare? Giorno per giorno le cronache, ricorda il segretario generale della CEI, rendono conto di giravolte interessate e dettate dalla paura di perdere consensi. La Chiesa Cattolica Italiana, senza approcci buonisti e nel pieno rispetto della legalità, ha lanciato e sta realizzando, ricorda Monsignor Galantino, la campagna Liberi di partire, liberi di restare, a cui ha destinato 30 milioni di euro, fondi provenienti dall'otto per mille. C'è chi prova a non lasciarsi mettere all'angolo o ridurre al silenzio, facendo proposte che vadano oltre i dissensi gridati e l'indifferenza praticata, conclude Monsignor Galantino. Quindi, la frase aiutarli a casa loro, se non si dice come e quando e con quali risorse precise, rischia di non bastare e di essere un modo per scolorarsi di dosso le responsabilità. Anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, spegne ogni fuoco su di un presunto scontro o di due posizioni o di due chiese sulla drammatica vicenda dei migranti e sull'aiutiamoli a casa loro. Io credo che il discorso dell'aiutiamoli a casa loro sia un discorso valido, nel senso che dobbiamo aiutare veramente questi paesi nello sviluppo, in modo tale che la migrazione non sia più una realtà forzata, ma sia libera, che sia un diritto di tutti, ma sia fatta non per costrizione, perché non si trovano nel proprio paese le possibilità di vivere e di crescere.